Sì, questo emendamento all'articolo 1, ai commi 2 e 3, si propone di limitare a massimo 6 giorni l'esercizio dell'attività per quanto riguarda i farmers market. All'articolo 6 invece c'è una cosa molto importante ed è quella che permette che non vi sia interferenza, citata anche dai consiglieri d'opposizione tra i mercati rionali e i farmers market, quindi prevede che negli stessi giorni orari dei mercati di altra tipologia collocati a una distanza inferiore a raggio di un chilometro dalla sede prescelta non possono essere istituiti i farmers market. Quindi c'è un criterio di distanza che tutela e differenzia appunto la clientela che può accedere al mercato rionale rispetto a colui che poi andrà al farmers market e questo è importante per non andare in conflitto tra le due tipologie. All'articolo 7, al comma 4 lettera D chiediamo che l'entità della concessione sulla repubblica dovrà essere parametrata sulla base della normativa vigente. All'articolo 8,4 che ci sia una limitazione per gli imprenditori agricoli che non possano partecipare in più di due raggruppamenti che risultano affidatari di farmers market, quindi una limitazione affinché non vi sia un monopolio, cosa che succede spesso anche nel commercio su area pubblica. E noi andiamo avanti su questo criterio e linea politica di legalità. Importanti anche le disposizioni finali al titolo 4 che istituiscono con questo regolamento i farmers market di San Teodoro, Corviale e Garbatella. Corviale era un farmers market abbandonato che si sta ristituendo e rivisitando, mettendo dentro anche un posto di polizia, un posto di servizio di poste italiane e quindi un presidio costante di legalità in una zona purtroppo molto degradata. Il farmers market di San Teodoro era stato fatto già con un bando e oggi viene legalizzato. Il farmers market di Garbatella ancora in prorogazio rispetto agli affidamenti che erano stati fatti in precedenza, cioè ciò che era stato fatto finora, erano degli affidamenti non dei bandi. Noi portiamo avanti la legalità ed oggi istituzionalizziamo e mettiamo a bando quello che altri facevano in modo diverso. Grazie.